Mi sta andando bene? Mi raccomando, non ti far influenzare da nessuno. Ragiona con il tuo cervello, ok? Vai avanti così. Vai avanti così che sei forte. Va bene? Quanto tempo che noi ci vediamo? Due mesi e mezzo, tre mesi quasi. Dai. Ci manchi? Ok, ci manchi a tutti. Va bene? Mi raccomando, ragiona con il tuo cervello. Non ti far influenzare da nessuno. E non parlare di troppo, non usare troppe parole. Quando ti fanno una domanda, rispondi su quello. Non intervenire sugli altri argomenti. Va bene? Ok? Te lo prometti? Eh? Stop, freeze! Non lo senti. Anche io lo senti. Non avevo proprio bisogno. Nicola? Nicola, sta bene? Noè, Melissa. Noè, Melissa. Noè, Melissa. Non ho vittai, Sara. No, no. No, 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 no. No, no, no. Grazie a tutti